Benvenuti in questo nuovissimo video di Pensare Minimal. Io sono Eric e qui abbiamo davanti un grandissimo personaggio che appunto è Andrea Ripamonti, poliglotta, ma non solo. Parliamo comunque di una persona che è veramente piena di risorse, su YouTube pubblica un sacco di video sulle lingue e soprattutto sull'apprendimento, giusto? Esattamente, ciao a tutti, sono veramente contento di essere qui con te Eric e ne approfitto per ringraziarti subito di questa possibilità che mi dai di parlare della mia passione che sono appunto le lingue. Grazie per la presentazione che mi sembra anche fin troppo esagerata. Alla fine non faccio altro che imparare le lingue, che è quello che mi piace fare da sempre, ecco. Devo semplicemente una passione, sì. Passione che comunque ti porti dietro da un po', mi pare di capire, giusto? Per chi non ti segue. Sì, sì, esattamente. È una passione che è iniziata quando ero bambino, quindi diciamo me la porto dietro più o meno da sempre, esattamente. Infatti, appunto, visto che comunque è una passione che tra l'altro ti ha portato anche dei risultati concreti, questo video sarà incentrato principalmente su, sì sulle lingue, ma principalmente sull'apprendimento di esse e andremo a sviscerare alcuni aspetti che secondo me sono importanti. Tra l'altro sono domande che abbiamo proprio, che almeno ho preparato da un punto di vista molto emotivo, perché anche per me, vi dico, le lingue, almeno nel mio piccolo, da autodidatta sempre, sempre con un assimil, quindi assolutamente comunque risorse buone, che per me è sempre... ha una certa componente emotiva. Quello che volevo chiederti è perché proprio le lingue? Sì, perché le lingue sono sempre state qualcosa che hanno suscitato del fascino in me. Quando ero piccolo, come ti dicevo, quando avevo iniziato ad andare a scuola, la lingua che si studiava all'elementare era ovviamente l'inglese, sentire queste parole così diverse da quelle che ero abituato a utilizzare nella vita di tutti i giorni suscitava una forte curiosità dentro di me. Mi chiedevo perché persone che provengono da un posto diverso utilizzano un metodo, un modo diverso per comunicare. E questa cosa era una cosa cui non sapevo darmi una domanda, ma che davvero suscitava in me una forte curiosità. Quello che mi chiedevo era se anche io potessi appropriarmi del modo di parlare usato da altre persone. E questo ha fatto sì che io volessi imparare appunto a imitare il modo in cui altre persone provenienti da altri posti parlavano. E quindi è nato così il desiderio di imparare le lingue. Curiosità e comunque imparare anche di capire, comprendere persone da contesti diversi, giusto? Esattamente, assolutamente sì, perché noi tutti proveniamo da contesti diversi, quindi con le lingue c'è la possibilità di non solo ricapire una persona, ma anche di capire tutto quello che ci sta dietro. Quindi il mondo di provenienza, la cultura di riferimento, e questa è una cosa veramente affascinante e al contempo stimolante verso l'apprendimento. E anche un po' mettersi in discussione. Senz'altro. E' importante nell'apprendimento mettersi in discussione per poi trovare il miglioramento. Esattamente, perché quando impari una lingua capisci un po' anche quali sono le tue difficoltà e non sono difficoltà solo legate al campo linguistico, ma più in grande riguardano proprio magari anche il tuo atteggiamento verso lo scoprire una cosa nuova. E quindi assolutamente quando ti impari una lingua impari anche proprio a migliorare la tua maniera di porti nei confronti, nel confronto delle cose e del mondo. E' un espandersi. Un espandere il mindset, che tra l'altro è un termine abbastanza abituato, mindset o mentalità, parliamo della stessa cosa. E a proposito di mindset e di, comunque, curiosità, secondo me c'è una differenza netta tra studiare e imparare. E perché secondo te è importante invece imparare piuttosto che studiare una lingua? Allora, iniziamo subito col dire che condivido il fatto che studiare e imparare siano due termini che possono sembrare la stessa cosa, ma in realtà non lo sono per niente, perché studiare si riferisce più al mezzo tramite cui puoi effettivamente imparare, quindi diciamo il mezzo per ottenere un obiettivo. Quello che io da sempre cerco di fare è appunto imparare. Il mio obiettivo è quello di saper padroneggiare diverse lingue. E lo studio non è altro che un mezzo per arrivarci. Se noi ci limitassimo solo a studiare, di fatto concretamente non sapremmo niente, perché studiare a cosa serve in sé e per sé, se non ti porta a un arricchimento di te stesso. Serve ben poco. Invece imparare... Esattamente, sì. Invece imparare le lingue significa davvero entrare in un mondo diverso, conoscere un nuovo paese, conoscere una cultura e farla propria. In questo senso infatti mi definisco spesso un cittadino del mondo. Certo, sono italiano, però allo stesso tempo nel momento in cui parlo una lingua e entro in un nuovo mondo, sinceramente riesco anche a sentirmi parte di quel mondo. È una cosa molto bella questa. Immagino, immagino. Quanti posti hai visitato fino adesso? Ah, guarda, fino a qualche tempo fa tenevo il conto di tutti i paesi. Adesso devo ammettere che mi sono un attimo perso, però sicuramente, a meno, l'ultima volta che li avevo contati erano più di 30 i paesi che ho visitato. Sì, quasi tutti, purtroppo per ora, quasi tutti solo in Europa, in quanto, vabbè, anche in questi ultimi anni, chiaramente, avevo dei progetti, tra l'altro, di andare un po' in altri continenti, ma purtroppo, per il momento, sono ancora in stand-by. Esatto. Però, sicuramente, tra i paesi che ho visto e che sono quelli che forse più di tutti hanno saputo arricchirmi, direi la Russia, tra l'altro il russo è una delle lingue che più mi piacciono, ma anche un paese molto affascinante che è la Georgia, che è bello per la sua posizione ai confini dell'Europa, vicino all'Ase. Posti che, diciamo, rispetto a quelli più blasonati, dici, ma che cosa potrebbe avere di speciale? Invece, comunque, è anche lì sempre il succo del discorso che affrontavamo prima. Cioè, proprio il porsi nella condizione di rivalutare anche l'opinione che avevamo di una cultura. Per questo che... Esatto. Comunque, per questo che faccio... che mi è venuta in mente questa domanda qui. che, tra l'altro, è il motivo per cui ho fatto la terza... per cui ho ovviamente fatto anche la terza domanda, perché sono domande che spero non siano troppo banali, nel senso... spero che siano a misura di ripamonti, ecco. E visto che abbiamo parlato, appunto, di cultura, fattore molto importante, così come, appunto, la comunicazione, e si collega a un altro video che ho fatto con Francesco. Cioè, la comunicazione e l'ascoltare. sono cose fondamentali. E, tra l'altro, appunto, la domanda che volevo porti è che cosa significa per te capire una persona che non parla italiano? Ecco, questa è una domanda, senz'altro, molto stimolante. e non è facile trovare una risposta, ma, secondo me, quello che ti permette di fare una lingua è proprio entrare in contatto con l'altra persona, entrare in sintonia con l'altra persona. E se tutto il mondo parlasse la stessa lingua, come di fatto un po', in sostanza, già avviene con l'inglese, che comunque è la lingua, diciamo, universale, secondo me, si dà luogo a un impoverimento di quello che sono effettivamente i legami interpersonali. Perché quello che ti permette di fare una lingua, ovvero, per appunto, imparare una lingua e poi parlare con il madrelingua, è bellissimo, perché tu entri proprio nel modo di vedere le cose che ha l'altra persona e che non è il modo in cui vedono le cose gli italiani piuttosto che gli inglesi. E quindi, assolutamente, imparare una lingua ti permette di entrare davvero in contatto con l'altra persona, di creare un legame che una lingua terza, una lingua ponte, non permetterebbe davvero di creare. Condivido, assolutamente. Mi fa venire in mente un'esperienza che ho fatto in Romania durante un Erasmus, un Erasmus tradagio molto particolare. e lo dico perché mi pare di capire che dai radar, dai miei radar, ti piace molto la Romania. Esatto, sì. L'hanno visto bene. Paese che a me piace. Io sono stato a Brebunow, non so se lo conosci, questo posto. È abbastanza piccolo. A Reshitz, vicino a Reshitz. Ah, ok, sì. Posto abbastanza piccolo. Ovviamente la zona. Ho fatto un Erasmus bellissimo, comunque con ragazzi o meno, ovviamente, molto formante come esperienza. Quando tu hai parlato di storie, mi è venuta in mente la storia che mi ha raccontato questo capogruppo. Ovviamente i capigruppo ovviamente instaurano un rapporto con appunto chi fa l'Erasmus e mi è venuto proprio in mente questo. Cioè lui mi ha raccontato il suo vissuto. Il suo vissuto che tra l'altro non è un vissuto semplice e ogni volta che penso al fatto che so l'inglese, tra l'altro mi piacerebbe sapere anche, che a me mi piacerebbe sapere altre lingue, per il momento me la cavo con l'inglese, è proprio questo. Cioè il porsi nella condizione di ascoltare le storie che hanno da raccontarti gli altri per evolverti, per evoluzione. Assolutamente. Sì, sì, sì. Questo senz'altro. E poi soprattutto penso che quando hai anche l'occasione di viaggiare in posti come per esempio tu mi dici sei stato in Romania, andare in questi posti che sicuramente non sono quelli più diciamo gettonati ti permette anche di scoprire culture che davvero hanno tanto da darti e che ti stupiscono perché spesso non te l'aspetti quanto siano ricche queste culture. e anche molto accoglienti verso chi è in grado di aprirsi a loro. Esattamente. Basta comunque avere, anche lì, è un atteggiamento di umiltà, chiamiamolo così. o almeno io lo chiamo così. Direi che secondo me è stata un'intervista breve ma secondo me molto intensa. Che cosa ne pensi? Concordo, sono state tre domande che non erano per niente semplici e che sicuramente credo che hanno interessato molto anche chi ci sta portando in questo momento. Mi raccomando, una cosa che raccomando a chi comunque segue il canale di veramente di guardare i video di Andrea che sono fantastici. Sono video molto molto personali, soprattutto le interviste, perché ammetto che io prendo spunto dalle interviste che fai. Infatti per questo motivo te ne ho proposta una. Tra l'altro molte con Francesco Bruno. Esatto, sì. Amico compare, che lui è persona straordinaria. Grande Poliglotta. Grande Poliglotta. Io non è per fare troppa pubblicità ma avrei in mente di fare qualcosa personalmente con lui anche perché è un uomo molto impegnato ed è un uomo che ama crearsi gli impegni. Perciò è lecito comunque mettersi all'opera. Certo. Ti ringrazio Andrea. È stata veramente un'intervista sì breve ma intensa. Non so veramente come ringraziarti perché è un onore. Io da piccolo youtuber quale sono, sono veramente contento di aver fatto un'intervista a te che hai tanto da dire in più lingue tra l'altro. E niente, secondo me possiamo salutarci qui. Ti ringrazio ancora. Grazie a te Eric. Grazie mille. Davvero. Buon proseguimento e niente ovviamente ti auguro al meglio e soprattutto di imparare il più l'unico possibile. Grazie Eric. Grazie tanto anche per questa intervista e per il blog che gestici che è assolutamente molto interessante. Grazie. Per cui sicuramente chi ti sta guardando già ti segue ma non mancherò di indicarlo anche ai miei contatti. Grazie mille. Quanto. Bene, bene. Scambio di informazioni. Ci sentiamo ad un prossimo episodio e ringraziamo sempre Andrea. Ciao. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.